Sto facendo degli sforzi enormi, proprio oggi ho incontrato rappresentanti della canteristica, rappresentanti vertici di Azimut Benetti che hanno dato disponibilità di voler investire sul nostro territorio, sul nostro porto, quindi significa nuova occupazione, nuove opportunità anche di crescita complessiva, di recupero di quote, non possiamo farci sfuggire queste occasioni e la fruibilità del porto è una condizione che loro hanno chiesto, sulla quale ho preso impegni e voglio che altrettanto la regione faccia la sua parte.